La mostra che abbiamo inaugurato questa sera è l'anticipazione di un ciclo che si svolgerà l'anno prossimo in tutta la provincia di Cuneo e in tante località diverse presentando una serie di mostre, 30-35 mostre sparse per il territorio. Il tema di questa rassegna sarà help, aiuto e naturalmente è un tema che vuole focalizzare le grandi tragedie, i grandi problemi del mondo contemporaneo a partire dalle pandemie, alle guerre, alle migrazioni e cose di questo genere insomma, quindi uno spettro molto ampio e ci è sembrata che la mostra di Tomaino che lavora da molti anni sulla natura fosse un buon inizio, una bella premessa per questa rassegna del 2022. Il piano di sopra, torniamo a rivedere le stelle, è un ciclo che nasce prima della pandemia ed è l'idea di guardare il cielo, cioè osservare il cielo con occhi diversi e perdersi all'interno di questa dimensione e capire anche il fatto di essere estremamente piccoli in relazione al cielo. Mentre il ciclo delle cartoline è una riflessione fatta durante la pandemia sul fatto che viviamo sempre più in un eterno presente, non riusciamo più a immaginare il futuro. Allora da qui l'idea di consegnare delle cartoline da mandare al mondo, alla gente con delle situazioni che rimandano al fantastico, che rimandano al visionario, quindi a una dimensione utopica perché se non riusciamo a immaginare il futuro vuol dire che non riusciamo ad andare avanti. Grazie.